Sarà rimossa la statua di Sant'Agazio che è stata installata davanti alla sede del comune calabrese di Guardavalle che sarebbe un dono alla città della famiglia Gallace, uno dei clan più potenti dell'Andrangheta. Il sindaco Pinossia ha annunciato che il Consiglio ha deliberato l'annullamento della decisione di installare l'immagine di Sant'Agazio, patrono della città. Una sollecitazione in questo senso è arrivata anche dal prefetto di Catanzaro, Francesca Ferrandino, che ha fatto pressione sul comune perché proceda immediatamente alla rimozione. Il caso era emerso dopo che Striscia la notizia aveva mandato in onda un servizio nel quale, non sapendo di essere ripreso, il sindaco aveva tra l'altro detto se tolgo la statua mi sparano. Ma oggi Ussia dice un'intervista durata più di un'ora è stata tagliata e rimontata d'uso, evidentemente di chi voleva fare notizia e sensazionalismo. Già, prima della messa in onda, precisa Ussia, era stata avviata la procedura per revocare il via libera di installazione della statua. E di questo, precisa, ho informato il prefetto di Catanzaro e tutte le autorità, quanto alla provenienza della statua, il donatore, per quello che ne so, è un signore di nome Gallace, che vive a Roma e che è solo parente, per quanto mi risulta nemmeno in buoni rapporti, dei Gallace a cui si è fatto riferimento. I Gallace sono considerati da sempre una delle famiglie più potenti dell'Andrangheta, con una presenza nel Lazio oltre che in Calabria. Tra i primi, a chiedere l'intervento allo Stato era stato il Codacons, ricordando come la criminalità organizzata utilizza i simboli, soprattutto quelli religiosi, per dimostrare a tutti il proprio potere. Per questo, l'organizzazione dei consumatori ha sollecitato il prefetto di Catanzaro perché provveda immediatamente a far rimuovere quella statua, anche attraverso il genio pinitale. Una raccolta di firme è stata avviata pure da alcuni consiglieri di altri comuni della Calabria, contro questa esternazione del potere da parte dell'organizzazione criminale più potente, come aveva sottolineato già ieri il procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri.